Mi fa sognare tutte le sere con danici mie fede Doesn't matter Ascolto e chiudo, rido che c'è black humor Non ti rilassare, non c'è neanche nessuno Se mi orli del cattivo gusto, sentenza un po' su tutto Sicuro tornerai sul porto Doesn't matter Doesn't matter Doesn't matter Live Ovvero l'ottantenne annoiato e il tunnel dell'amore Parleremo della storia dell'animale incredibile Per la prima volta in questo 2021 Torna con Luis, il cane malato E infine avremo l'angolo della morte Eccomi 3-3 Bene Funziona il robot Tu non l'hai sentito Jimmy? No, che hai fatto? Una voce che ha detto Eccomi 3-3 Apriamo le notizie di questa sera Parlando di cambiamenti climatici E state tranquilli Non abbiamo assolutamente intenzione di frantumarvi le palle Con pipponi sul problema del riscaldamento globatico Il problema del riscaldamento globale Il riscaldamento globatico Is the new Italiano Mi sa che sono io il ritardato Che legge quello che succede in live Comunque Ah dai ieri Hai perso la mano a leggere la live Eh sì, ci vuole almeno una settimana di rodaggio Prima di ripartire Comunque Ci concentreremo Non vi tireremo i pipponi sul cambiamento climatico Ma ci concentreremo su un evento molto raro Accaduto ieri Ci troviamo In Arabia Saudita E precisamente in uno dei luoghi più caldi del pianeta Ovvero il deserto del Sahara E... O ancora meglio Dovrebbe essere uno dei posti più caldi sul pianeta Ma ieri è accaduta una cosa rarissima E che ha destato subito preoccupazioni Riguardo al surriscaldamento globale Ovvero Sai cosa è successo ieri nel deserto del Sahara, Jimmy? No Ha nevicato Il meteo è impazzito Le temperature sono scese a meno di due gradi Ed è un evento che non capitava da oltre 50 anni Ha iniziato a nevicare nel deserto Ricoprendo di bianco le dune gialle E ovviamente non ha nevicato su tutto il deserto del Sahara Perché è immenso Ma precisamente nella zona adiacente all'Algeria Quindi immaginate lo stupore delle persone Che alcune di loro non hanno mai visto la neve nella loro vita E soprattutto lo stupore dei cammelli Che si sono ritrovati in un clima A cui non erano abituati Certo che le temperature scendono sotto lo zero Durante la notte nel deserto Però comunque i cammelli e la neve non l'hanno mai vista Non hanno le gomme giuste per girare Però Mi piace Non hanno le gobbe giuste per girare Non le gomme Questa battuta di merda Mi doveva interrompere Sì Scusami ma non riuscivo a trattenerla Buonasera Bellissimi Mi siete mancati tre Mi piacerebbe assistere a una cosa del genere Alla neve nel deserto Cioè deve essere Magico Sicuramente una cosa magica Sì c'era il bot Jimmy Elician Grazie mille per la sub Elician Come vedi da questa foto caro Jimmy E' stato ritrovato il Salvatore Mundi Dipinto di scuola leonardesca Che vale un sacco di soldi Ed era stato trafugato dalla basilica di San Domenico Maggiore Il quadro è stato ritrovato questa mattina a Napoli Nell'appartamento di un 36enne Di un 36enne Che ora è stato sottoposto a fermo Con l'accuso di ricettazione Bello sto quadro Lo voglio Da Napoli passiamo a Milano E diamo brutte notizie per i fumatori Non so se hai sentito questa notizia Jimmy Fresca fresca E' terribile Non si può fumare più nei parchi E nelle fermate degli autobus E non solo Infatti da oggi 19 gennaio Sono entrate in vigore le misure previste Dal regolamento sulla qualità dell'aria Quindi come dicevi tu Non si potrà più fumare all'aperto Nel raggio di 10 metri Da altre persone In generale Non si potrà fumare nei parchi Alle fermate dei mezzi pubblici Nelle aree gioco per bambini Chissà perché è quello Cioè io mi immagino I fumatori che dicono Cazzo no Io volevo andare a fumare nel parco giochi E non si potrà più fare Nelle aree per cani Nei cimiteri E nelle strutture sportive Incluse Nelle strutture sportive Inclusi gli stadi Quindi non si potrà più fumare allo stadio Ma allo stadio non si poteva fumare Già da prima E adesso ancora di più Praticamente poi c'è stato Il fatto del parco dei giochi dei bambini Penso chissà quanti genitori Ora per fumarsi la sigaretta Abbandonano il bambino al parco giochi E si allontanano E lo lasciano Cacchio E perché se tu Tu immagini di essere fumatore Di avere un figlio Che cosa che gioca Due ore al parco Quello diceva Non di muovere E poi non lo trovo più Le cose sono due Esatto O non fai figli Oppure lo abbandoni Per andare a fumare Oppure inzi a far fumare tuo figlio Così è andato a fumare insieme Bellissimo Sette anni lui Quaranta tu E con questo Tu la trovi giusta Voglio fare un tuo parere Sulle sigarette E Allora Nì Nel senso Trovo giù Trovo sbagliato che non si possa fumare all'aperto Trovo giusto che non si debba fumare A meno di dieci metri da una persona Tanto c'è il covid Quindi un metro ce la deve essere assicurato Ne prendi altri nove E poi fumi tranquillamente Minchia Però deve essere C'è ormai una mappa geografica Su dove puoi accenderti una sigaretta Che deve essere l'ondano da un barco giochi Da una scuola Dai bambini Da una persona Stai a casa Fuma dal tabaccaio Immagino uno con la sigaretta Che ci fa Oh stai fermo là Che mi sto fumando la sigaretta Perché se ti avvicini mi fanno la multa Perché altro devi fare Sai che ansi Cioè la gente più stressata Fumerà di più Esattamente Oppure magia di fumare Mentre cammini C'è uno dietro Inizia a correre Oh Mi sta raggiungendo Mi sta raggiungendo E tu non riesci a correre Perché sei un fumatore Che cazzo che cammina col metro No perché A me queste leggi Sono quelle che mi fanno Incazzare dal punto di vista Che mi chiedo Chi ti fa la multa Cioè Cosa cammini con un metro Cioè La discussione del tizio Lei ha meno di un metro di distanza Con la sigaretta Da una persona Allora che fa Dunque Io sto fermo là Io sto fermo qua Mettiamo il metro a terra No Eh sono 9,58 signora No vabbè Ma non è una cosa Che la gente Cioè Passa la pattuglia Di carabinieri Ti vede che sei A 8 metri Anziché 10 E stai fumando E ti fa la multa Secondo me Più che altro Se ti accendi la sigaretta Mentre sei Alla fermata del bus C'è uno che si lamenta E chiama i carabinieri In quel punto Avanti che arrivo Non finito il pacchetto No No infatti Quello sì E più che altro Se c'è la pattuglia vicina E li chiami E gli dici Ehi sbirri Questo sta fumando Davanti a mia figlia E gli fanno la multa È più per regolarizzare Questa cosa Diciamo Ragazzi Quello che lo chiama Passiamo al genio del giorno Va Non chiedermi perché Ma anche Per il genio di oggi Torniamo a Torino I geni di quest'anno Quanto pare Sono tutti piemontesi Però la conosci Questa piazza Sì questa piazza Sì questa è Piazza Vittorio E No non è vero Questa è la piazza Che è piazza Statuto No non è neanche Piazza Statuto È la piazza Che c'è a fine Di via Roma Vaffanculo Non mi ricordo Come si chiama Piazza della Signoria Che cazzo No no In fondo di via Roma C'è questa piazza qua Piazza a fondo via Roma Si chiama Comunque Non c'è bene Torino Devo dire Vabbè non è che imparo A memoria i nomi delle piazze Non sono mica Tutto città Farò un cento cose che non sai Dove nomino tutte Cento cose che non so Non ho tutte le piazze di Torino Piazza San Carlo Dice tua mamma Piazza San Carlo Grazie mamma Esatto Sì c'è lo stabile qua dietro Solo che non si vede nella foto Stavo dicendo Il protagonista del fatto Ha compiuto un'azione Che è accaduto ieri sera E riguarda un uomo di 80 anni Questo simpatico ansianotto Stava passeggiando nel quartiere Nel quartiere di Mirafiori Avvicinandosi ad ogni auto A parcheggiata Precisamente faceva avanti e indietro In via onorato Vigliani Attirando così l'attenzione dei carabinieri Che alla fine hanno deciso di arrestarlo E tu dirai Jimmy Perché arrestare un tenero ottantenne Che passeggiava e guardava le macchine? Perché non vi ho detto un particolare di questa storia L'anziano signore era armato di forbici E non si limitava ad osservare le macchine Ci si avvicinava e bucava le ruote Quando i carabinieri gli hanno chiesto Il motivo del folle gesto L'uomo ha dichiarato testuali parole Cazzo ne so Mi andava di farlo Questi sono gli anziani che abbiamo a Torino Jimmy Ci sta Mi hanno ritirato la patente Non guido io Non guiderate tutti Bastardi Ma tu immagina Incontrare un uomo di ottant'anni Che di solito Cosa deve fare un uomo di ottant'anni? Girare con le forbici E bucare le ruote della macchina Perché si annoiava E perché guarda col covid Non ci sono i cantieri Più da guardare Esatto Quindi guarda Lanas Che va a ritirare le macchine Da del lavoro Esatto Chissà quanti meccanici Hanno goduto di questa cosa I gommisti erano in fila Era un'associazione delinquere Vabbè il nipote è gommista Non lo so Secondo me è una certa età Poi inizia Perdi i colpi col cervello Hai questa maniera di tagliare Di fare Di dire Perché è una cosa Tipo Voi non ce ne vedete Quello di buco e il pallone Io avevo una vecchia esterica Che te lo squarciava Col coltello Davanti ai tuoi occhi Il pallone È vero Chissà perché Cioè Tu va bene Gli rompevi le palle Perché gli tiravi le pallonate Magari sul muretto di casa Però Cioè Ti taglio la palla Ma oh Cioè cosa vuol dire Ma perché poi Poi non è che Cioè non è che tu miravi Cioè giocavi per giocare Non è che miravi Il 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 balcone Cioè gli finiva un pallone Ogni 3000 tiri Finiva il pallone là E quello lo prendeva E lo dovevi tagliare Perché secondo me Non hai un cazzo a che fare Quindi Quella voleva là Cioè se noi ce l'andiamo Che cazzo fai tutto il giorno Quella era messa in alletta Ad aspettare sto pallone Per tagliarlo Hanno questa mania Io tipo mia nonna Con l'età Più passata l'età Più aveva manie Di quando va alle fiere Di comprare coltelli Accennini Che non gli servono un cazzo Tu non è crocodile dandy Sì Compra queste cose Vabbè mia nonna Sembra una fisima Per i coltelli Cioè mia nonna Ti deve tagliare un pezzo di pane così Prende un macete Tanto Tanto Cioè tanto Deve essere proprio quello là Di Di rambo E il genio Stranamente questa volta Non è piemontese Ma messicano E per raccontare la sua storia Ci spostiamo a Villa del Prado Appunto In Messico Antonio Il protagonista Della nostra storia È un muratore Di Villa del Prado Che sta portando avanti Una relazione Molto pericolosa Ovvero Va a letto Con una donna Sposata E ieri Perché questa notizia è freschissima Mentre Era a letto Con la sua amante Pamela Pamela Decide Di ricaricare Le batterie Prima di un secondo Incontro d'amore Quindi per ricaricare Le batterie Nome da amante Pamela Pamela Si per forza E si pronuncia Pamela Come Ivona Ivo O Natascia O Natascia Comunque Prima di fare Il secondo Atto d'amore Il nostro caro Antonio Decide di ricaricare Le batterie E scende Nella cucina Della donna Per farsi Uno spuntino Mentre Antonio È in cucina Completamente Nudo Entra in casa George Il marito Di Pamela Dopo due secondi Di immagini È George Che entra E vede un nuovo nudo Che sta spadellando Nella cucina Ha questa faccia No questa è una foto Non ti dico Che cosa mi è uscito Oggi su Google immagini Quando ho scritto Mexican cook Non lo ho io so Però puoi immaginare Comunque Antonio Era completamente Nudo Che spadellava Nella cucina Di George Dopo due secondi Di imbarazzo Antonio capisce Che è in pericolo Di vita E comincia a correre via Rifugiandosi Nella camera Di Pamela George Che lo stava inseguendo Per dargli una mano Di botte Entra anche lui In camera E Antonio E Antonio E' sparito E' sparito nel nulla George è su tutte le furie La moglie Non dice niente E l'uomo Per trovare L'amante della donna Comincia a ribaltare Tutti i mobili Di casa Dove sei bastardo Se ti trovo Ti uccido Ma di Antonio Nessuna traccia A quel punto A George Rimane un solo punto Dove guardare Ovvero Sotto il letto Dove c'è sopra Pamela Così Sposta il matrimoniale E l'uomo Fa una scoperta Incredibile Sotto al letto C'è un tunnel Sotterraneo George Entra nel tunnel Sembra la trama Di un film Jimmy Ma è tutto vero George Entra nel tunnel Lo percorre Tutto Fino a scoprire Che l'altro Capo del percorso Va a finire In un'altra Abitazione Ovvero La casa Di Antonio A quel punto Entra E trova Antonio Seduto nel soggiorno Che stava mangiando Che cazzo vuoi Esatto Vede George Antonio Si spaventa E dice Ti prego Non farmi del male E soprattutto Non gridare Perché anch'io Sono sposato E nell'altra stanza C'è mia moglie E non voglio Che scopra Che mi trombolatua Di nascosto A questa frase Scoppia il delirio Perché George Si incazza Ancora di più E comincia A prendere a pugni Il povero Antonio Intanto La moglie Di Antonio Che sente Che c'è Del casino In soggiorno Si precipita In stanza E Pensa che George Sia un delinquente Che sta picchiando Suo marito Così chiamano La polizia Arrivano Gli agenti Dell'ordine Vengono arrestati Tutti e due E Antonio Alla fine Ha dovuto confessare Di aver tradito La moglie E di aver scavato Il tunnel Che portava Da casa sua A casa della sua amante Nessuno si ha accolto niente Nessuno si ha accolto Allora C'è da dire Che in Messico Era specificato Nella notizia Ci sono diversi Diverse gallerie Sotterranee Sotto le abitazioni Che venivano Vengono utilizzate Per il traffico Di droga Quindi Antonio Ha scoperto Di avere Una di queste gallerie Sotto casa L'ha scavata Un po' Ha modificato Il passaggio Visto che è un muratore E si è creato L'uscita A casa dell'amante Fantastico Immagina Quando ti fatti Come fare Per scopare tranquillo Infatti Se andava Mignotte Risparmiava soldi E tempo E fatica Però c'è da dire Che è un artista È un artista Dell'amore Antonio Allora Torna anche Nel 2021 La storia Dell'animale Incredibile E l'animale Protagonista Di oggi È Luis Jimmy Queste sono le storie Che piacciono a te Uno Non so come si pronunci Shefferd Shefferd Ok Uno Shefferd Lab Di tre anni Che vive a San Diego Vi dico già Che non sarà Una storia bella Ma comunque C'è un lieto fine Luis purtroppo È un cane malato E la famiglia Che se ne occupava Non si è mai Presa cura di lui Finché la malattia Di questo cane Lo ha reso Completamente cieco E con un'operazione Chirurgica Gli hanno dovuto Togliere I bulbi ocolari A quel punto Queste persone Di merda Che non volevano Un cane Non vedente Hanno deciso Di abbandonarlo Ma non siate tristi Come vi dicevo È una storia Fin di bene Infatti Luis Ha trovato Immediatamente Un'altra famiglia Steve Walkers Un veterano Dei Marines Che ha accolto Il cane a braccia aperte E ora Vivono insieme Tutti belli Felici e contenti Ma secondo te Jimmy Può finire così Questa storia? No Ti prego Mi sto sentendo male Già Così Ovviamente No Dovete sapere Che Steve Il padrone Del cane Soffre di una rara Malattia agli occhi E sta per diventare Cieco pure lui Ma come detto Luis Ha finalmente Trovato l'amore E come sappiamo L'amore è cieco Vabbè Basta È finita Però questa punchline Finale Mi ha ammazzato Mentre la scrivevo Mi sono sentito Il dio Delle sceneggiature L'amore è cieco Punto Che battutona Madonna Hai spaccato Il tasto Della tastiera Quando hai scritto Punto Il punto esatto È caduto per terra Impressione No è vero Adesso vabbè Si ride Si scherza Però fa vero Scalda il cuore Vederlo Così Senza occhi Con lo sguardo chiuso Povero cane Ma non ci Rattristiamo Jimmy Perché Il podcast Deve andare avanti E deve continuare A far ridere Infatti Ora passiamo All'angolo della morte Sigla Cazzo Riti Ad aprire L'angolo della morte Troviamo Gabri Ponte Oh Gabri Ponte Che è successo Il DJ È vivo Sta bene Cioè non sta bene È mai vivo Il DJ sta per affrontare Un delicato intervento Al cuore E lui stesso Ha avvertito i suoi fan Sui suoi social Domani mattina Quindi il 20 gennaio Domani mattina Andrà sotto i ferri E noi ovviamente Facciamo un grande In bocca al lupo A una delle persone Che ha fatto parte Della colonna sonora Della nostra infanzia Assolutamente Inutili invece Sono i nostri In bocca al lupo Per Emanuele Macaluso Perché è morto Quindi Già in questa foto Non lo vedo bene Aveva 96 anni Ed è stato Uno storico dirigente Del PC Sai cos'è il PC Jimmy? Il PC Sì Il Partito Comunista Italiano Mi hai convinto Io non lo so Però quando ci sono Tre lettere abbreviate È sempre qualcosa Di politico Vabbè Vabbè che sì A lasciarci E anche Harry Brandt Morto per un overdose Accidentale Di farmaci prescritti Aveva solo 24 anni Ed era il figlio Della top model Stephanie Seymour Non abbiamo parole Da spendere Perché non lo conosciamo Immagino Vero Jimmy? No mi dispiace Perché è giovanissimo Onestamente Stavo guardando Ma che cazzo Non gli crescono I pedi A queste persone famose Sono senza Senza imperfezioni Una cicatrice Un taglio nella faccia Sono super Si è tolto la via Ma è morto Direi che più Imperfetti di così Si muore Ah effettivamente Io rido Per le battute Che faccio da solo Bravo Sei molto simpatico Per te stesso Esatto La lista si conclude Invece con Jean-Pierre Bacri Jean-Pierre Bacri Immagino Morto a Parigi A 69 anni Era un noto attore Di teatro E cinema Ed è morto Per un cancro La live Finisce qui Noi ci vediamo Domani nel pomeriggio Con questa live Rimontata sul canale Apposito Dedicato alle live E domani sera Alle 21 Mi raccomando Vi voglio belli carichi Perché domani sera Giocheremo tutti insieme Che torna Lo strano quiz Quindi studiate Questa sera Ciao a tutti Grazie ai nuovi abbonati Grazie agli abbonamenti vecchi E grazie a chi c'è stato Chi non c'è stato Se ne può andare a cagare Grazie a chi c'è stato